si oggi abbiamo massi non vabbè c'è la schiena di spesa ma si ma si no ciao ragazzi si però entra madonna entra nella webcam oggi faremo un video di minecraft si dice mince raft vabbè oggi faremo un video di mince raft si dice minecraft minecraft allora cremo un nuovo mondo ok sopravviventi o crea? crea no ok ma non c'è un bambino è sopravvivenza questo qua non è la mano di sbrisar comunque è la mano di zio gruco eh sì esattamente zio gruco perchè la mattina? è un bambino è un bambino è un bambino è un bambino nooo dopo 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 tranquillo ma si non la chiamo dopo un bambino c'è una è un bambino 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 tra un mese buon mese e due mese tra un mese e due mesi Non uccidere Non gli ho fatto niente e cominciò a fare l'uso Perché muoiono Una c***a Sì, io ti creo le palle Porco macino Non lo so scherzato Non lo so scherzato Non lo so L'ingua devi fare il serio Devi fare il serio Ok Però devi entrare nella registrazione Non lo so scherzato Non lo so scherzato Non lo so scherzato Che cos'è questo? Non lo so scherzato Non lo so scherzato Non lo so scherzato Non lo so scherzato Mi riguardo a costruire Chi è ci costruire? Ma sì, no, ormai ci sono le mod Basta 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 per blocco vabbè dai abbiamo ucciso animali guarda io già vedo i dislike un numero che manco dio conosce io sapevo che non doveva diventare nel clan manx io lo sapevo abbiamo soltanto un secondo membro del clan manx vabbè non è francesco che non c'entra un ctubero io giuro che antox lo ammazzo eh lo ammazzo ma lo ammazzo perché c'è fuori francesco un gruppo c'è fuori francesco manux anix che ha scritto anix manux lo fra è antox e chi mi ha chiamato gamer come i i las i e o i o i altrux alfabetico a tapare i cutan a bam bam bam